Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma sono possibili i disagi per un incidente al km 357-500 tra Valdarno e Arezzo. In A12 colonnine dell'SOS inattive per guasto all'impianto tra i km 188-300 e 189-300 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. Per i treni, per lavori di manutenzione del viadotto stradale sul fiume Arno a San Donnino, interruzione anche oggi della circolazione ferroviaria tra Firenze ed Empoli. Info sui nostri canali social. Infine per i traghetti, la corsa da Piombino a Portoferraio via cavo delle 8.40 è stata cancellata per maltempo. Ed è tutto, buon viaggio!